Si è conclusa con un evento di pulizia in Palmaria la stagione estiva degli eventi organizzati dall'associazione Blue Life. Alla giornata dedicata all'ambiente ha partecipato anche Palmaria Sea Master Plan No, che ha contribuito con alcuni volontari che si sono impegnati nella raccolta dei rifiuti. Alla fine della pulizia i partecipanti hanno potuto assistere ad un'esibizione del gruppo sambista Spezzino, Bate e Balengo, che hanno suonato sull'isola e sulla motonave Albatross nel tragitto di ritorno alla Spezia. I volontari hanno raccolto e diviso in base alla raccolta differenziata moltissima plastica, polistirole e mossiconi di sigaretta. All'evento ha partecipato anche un sommostratore che ha dato il suo contributo pulendo un tratto di fondale. Adesso l'associazione Blue Life si prepara ad organizzare gli appuntamenti autunnali. Per informazioni o per proposte è possibile contattare lo staff sulle pagine social Instagram e Facebook.